Nel 1960 iniziamo a fare questo prodotto che era un aceto di vino. Sul mercato fecero delle verifiche, degli studi, delle comparazioni e non c'erano aceti che potessero avvicinarsi a tanta qualità. Io sono Davide Varvello, da quattro generazioni produciamo aceto e condimenti. Il nostro prodotto si distingue per essere stato il primo ad essere fatto con un buon vino. Facciamo ancora oggi la differenza nell'essere bravi a selezionare dei vini sani e genuini e una volta trasformati in aceto farne dell'invecchiamento. Vuol dire aggiungere un buon vino, la stessa matrice di vino utilizzata per fare l'aceto, al nostro aceto appena trasformato e poi mandarlo in maturazione, in legni pregiati. Durante la maturazione è questo vino che conferisce profumi e bouquet al nostro aceto. Il segreto di un buon aceto di vino è che utilizzato con un olio extravergine e lo stesso olio diventa ancora più buono. La molecola dell'olio si rompe in presenza della molecola di aceto conferendogli più profumi.